Gentili telespettatori, buona giornata, c'è un'indiscrezione clamorosa. Pier Silvio sarebbe pronto a scendere in campo, ci sarebbe anche più o meno una data, con Gerry Scotti, no? Gerry Scotti, famoso conduttore televisivo, che a me piace molto Gerry Scotti, non so perché, ma a me è sempre piaciuto moltissimo. Chissà, magari mi ricorda qualcuno, non lo so, però a me Gerry Scotti è sempre piaciuto tanto, una persona preparata, di cultura e persona molto anche sensibile. Ma lui smentisce, anche se diversi giornali hanno proprio parlato non solo di loro due, ma anche di Massimo Antonio Doris, figlio di Ennio Doris, quello della banca che gira intorno a te, no? Quello della famosa pubblicità della banca che gira intorno a te. Credo, eh, di non sbagliarmi. E così, lui, Gerry Scotti, parla di fantasie assolute. Beh, voci rilanciate prima da Dagospia. Dagospia non è un sito che racconta frottole, eh. Dagospia la sa sempre lunga. Dagospia, secondo cui la novità sarebbe prevista, attenzione, attenzione, ad aprile del 2025, quindi lanciatissimo Pier Silvio Berlusconi potrebbe diventare il prossimo capo del governo. Pier Silvio Berlusconi. Un Silvio Berlusconi con il Pier davanti. Beh, il Pier è dall'agiatezza, no? Il lusso, il benessere, Pier, no? Va bene. Comunque, aprile 2025, insomma, non è neanche tanto il là, siamo a settembre 2024, lo dice non solo Dagospia, ma lo dice anche il fatto quotidiano di Marco Travaglio, che però Marco Travaglio dà la possibile discesa in campo di Pier Silvio Berlusconi poco prima delle elezioni politiche del 2027. Però Pier Silvio avrebbe poco tempo, perché l'obiettivo qual è? Convincere il 30% che vota per la Meloni a votare per lui. Non è facile, non è facile far cambiare idea dell'agent su Giorgia a passare a Pier Silvio, quindi da Giorgia a Pier Silvio. Un ritorno in Forza Italia, perché voi sapete che gli elettori sono partiti tanti e tanti anni fa in Forza Italia, erano partiti in Forza Italia, per poi spostarsi allegramente nella Lega. Il capitano a ridosso del papete aveva un bel 35% o forse di più, poi il capitano decaduto tutto questo elettorato passa con Giorgia Meloni, quindi Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia. Quindi dal capolinea al capolinea del centrodestra. La corsa è finita, o si scende o la metropolitana torna indietro, però probabilmente salta completamente la fermata della Lega che è stata chiusa e va direttamente al ritorno a Forza Italia. La squadra che Pier Silvio potrebbe contare sarebbe composta da diversi nomi, Massimo Antonio Doris, figlio di Ennio, e Gerry Scotti. Diverse voci dell'entourage del popolare conduttore sentite dall'agenzia di stampa di Enne Cronos dicono «Gerri accetterebbe ruoli solo da Papa in su», hanno detto scherzosamente. Anche Massimo Doris avrebbe smentito, dice «Amo il mio lavoro di imprenditore e banchiere e proprio per questo escludo in un modo categorico il mio coinvolgimento in politica oggi e in futuro». Strane che queste voci parlano proprio del figlio di Ennio e Gerry Scotti, la data, aprile 2025. E poi sappiamo che Pier Silvio Berlusconi avrebbe commissionato dei sondaggi su di lui. Su di lui, nemmeno una nuvola. Comunque persone vicine all'amministratore delegato di Mediaset hanno sottolineato, proprio sottolineato con l'evidenziatore, che nulla si è mosso dall'ultima smentita. Ma è ovvio che questa cosa è oggi segreta. È oggi segreta. E verrà eventualmente comunicata dallo stesso interessato con la discesa in campo e la sua squadra. E così nulla si è mosso, dicono da Mediaset, dall'ultima smentita fatta dallo stesso Pier Silvio. Il fascino della politica c'è, aveva detto il secondo genito di Silvio, anche se poi aveva precisato di essere intenzionato a proseguire il suo impegno da imprenditore, bollando come una balla assoluta l'aver commissionato sondaggi su di lui e sulla politica. Quindi balle assolute, balle spaziali, tutte fanfaronate, però quando si dicono alcune cose si vede che sotto sotto c'è infasil. No, quella era una pubblicità degli anni Ottanta, sotto sotto qualcosa bolle in pentola. Certo che Pier Silvio sarebbe sicuramente meglio di Tajani. Ecco, per essere meglio di Tajani ci vuole molto poco, ma molto poco. Quindi un Forza Italia con Pier Silvio, persona intelligente, persona a modo, insomma, Pier Silvio non sarebbe il portavoce di se stesso, perlomeno non sarebbe un maggiordomo come Tajani. Insomma, almeno togliamo il maggiordomo e fa direttamente lui. Ecco, forse è meglio, diceva il puffo Brontolone, che è meglio. Bene, interessante però, perché dato che oggi come politico c'è solo Giorgia Meloni, la discesa in campo di Pier Silvio potrebbe davvero portare un secondo vero politico. Io adesso non lo so com'è Pier Silvio, sinceramente non l'ho mai sentito fare ragionamenti. Non vi so dire se è una persona che fa dei ragionamenti eccezionali, oppure come Elislein o come Toninelli. Io non lo so se Pier Silvio Berlusconi è un Toninelli con una valanga di soldi. Spero di no, perché a quel punto uno va a rimpiangere Tajani, l'eterno portavoce, lo da loro signore. Arrivederci a tutti e grazie.